Bene, ciao, buongiorno a tutti. Oggi faremo dei esercizi per allungamento della schiena e per distendere bene i pettorali. Per prima cosa ci mettiamo con le mani appoggiate su un tavolo e portiamo indietro e indietro il sedere e stendiamo la schiena con lo sguardo che punta verso il basso. Respiriamo piano, con calma e rimaniamo per 10 secondi. E torno piano piano su, sollevando per ultimo spalle e testa. Adesso facciamo l'esercizio di distensione del petto. Molto semplicemente, cercando di tenere ferma la parte che va dalla bocca dello stomaco in giù, porto i pettorali in fuori e lo sguardo si alza verso l'alto. E rimaniamo così per 10 secondi. Mi raccomando, cercate di non cadere con la testa. La testa fissa solo in l'alto, però non cade indietro. E torno su, piano piano piano. Questo è l'esercizio che consiglio a tutte perché è rilassante, aiuta ad allungare veramente bene la colonna vertebrale e aiuta anche a distendersi. Quindi, cercate di divertirvi. Ok. Grazie. Grazie.